È stato il presidente nazionale delle ACLI Emiliano Manfredoni a concludere i lavori del 27esimo congresso provinciale di Taranto delle associazioni cristiane e lavoratori italiani. L'evento si è svolto nei saloni del Releisto San Pietro e ha avuto come tema conduttore Progettiamo il futuro le ACLI, modello di cittadinanza attiva. Gli onori di casa sono stati fatti dalla presidente provinciale dell' ACLI Giuseppe Mastrocinque, presente a Taranto anche l'amministratore delegato dell'ENAIP nazionale Paola Vacchina. La cittadinanza attiva vuol dire attivare i cittadini, attivare l'insieme delle comunità, è quello che fanno le ACLI ormai dal dopoguerra in poi, per ricostruire non soltanto materialmente ma anche spiritualmente le persone, è la cosa che serve oggi. Oggi che abbiamo questa guerra alle porte e che ci mette molta ansia, ma che abbiamo ancora oggi le ferite di una pandemia che non è ancora finita. Della cittadinanza attiva del futuro non può non far parte il lavoro, il lavoro come veicolo di partecipazione, come veicolo di riconoscimento e piena esplicazione della dignità di ogni persona. Noi siamo tra quei corpi intermedi che devono farsi portavoce dei diritti di chi normalmente non ha voce, quindi degli ultimi, degli oppressi, dei poveri, delle donne che subiscono violenza, dei lavoratori non tutelati dal sindacato perché magari sono lavoratori precari, che sono lavoratori a nero. Ecco, questo è il nostro campo di attività. Grazie.